Ciao a tutti ragazzi, oggi vi volevo ringraziare per avermi fatto arrivare a 300 iscritti e vi volevo dedicare per la prima volta in live Coco, ragazzone dei Lucky Shops che a proposito verranno tra qualche giorno qua a suonare, a fare un concerto da Roma. Buon ascolto! Grazie a tutti! 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 Ci vediamo in un prossimo video, grazie ancora!